fase 3 di merda ecco la Iole lavanda senza mascherine e senza guanti ma era tutto bene la mascherina è obbligatoria ma dove va quella? oh Iole dove? ah va da carlo, quello è buono durante la quarantena scavava l'orto anche di notte chi sa come mai la moglie non si vede più in giro l'aiole vuole andare a fondo è venuto il pizzaiolo? hai comprato il lievito di birra? no ciccia non ce ne ho girato a mezzo mondo Penny Market lievito ciccia Carrefour lievito ciccia ciccia Conad lievito ciccia col botto Gigante ciccia col timbro Ones ciccia che non hai idea ancora un po' mi spottavano in faccia Ipe perché c'è quella faccia da funerale? allora sai che voglio la pizza cosa che mi stai a dire queste cose che voglio la pizza la pizza gli evito di birra la pizza tu la pizza pizza, 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 basta un po' zitto questa pizza piuttosto mi scappava mi sono infilato in un bar ma è una tragedia fare plin plin con guanti e mascherina e lì ci appannano gli occhiali poi non hai tanto non sai se ti sei tirata giù le mutande la pizza, vuole la pizza non sai se ti sei tirata giù le mutande o cose finisce che ti pisci le scarpe una signora per la vergogna delle scarpe pisciate si è impiccata allo sciacquale pronti sempre buone nuove pizza, 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 pizza